Voi adesso mi vedete in una situazione leggermente imbarazzante ma io ero un grande uomo non mi mancava niente avevo i soldi, il successo e una moglie bellissima Perché non andiamo a farci una vacanza? Lo sai che ci sono dei conventi sperduti? Ma poi un giorno arrivò lui Carissimo Occhio! Scusami Biagio, sai ma è Dennis lì che mi faceva ridere E la mia vita andò a fondo Sempre più a fondo Un momento però non è andata come immaginate Signor Bianchietti, lei ha diritto a un bonus di una settimana da trascorrere sulla terra Può diventare chi le pare Dennis Rufino, il grande manager Ciao Ottone, sono Dennis Sì, sto partendo Caro Dennis, benvenuto Tutte me le devo pagare, tutte! Per te? Pasta di soia fermentata e involtini di alghe crude So tutto Ma chi me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Hai fame? Meglio Devi essere una bestia affamata quando lo azzammerai per finirlo Eh, ho esagerato Tu devi esagerare Virginia Ma smetti di corteggiare mia moglie Voglio dare una svolta umanitaria al mio lavoro Non ne importa niente delle donne africane Sono altre le donne che le interessano Avrebbe bisogno di una lezione Dennis! Bondage Dimmi Bondage Ma chi è? Chi è? La conosco E a proposito di cena Ovviamente giapponese Ma tu hai capito chi sono io, eh? Hai capito chi sono io? Io non sono Dennis Rufino Io mi sono reincarnato Ottone, dammi la mano, Ottone Non voglio morire Muni dopo, cretino Dammi la mano Scusa che mi ci devo ancora abituare Del drama di un hombre tan normal